Hai presente la nuova Suzuki Suace Hybrid? Riduce consumi, rispetta l'ambiente e si ricarica da sola. Una open space sicura e tecnologica. Fatta per migliorare la vita a te e al pianeta. E lo spazio? No, dico, lo spazio interno. È pazzesco! Formato famiglia e anche per tutte le tue passioni. Nuova Suzuki Suace Hybrid. Viaggia in open space. Tua da 23.400 euro con incentivi.